Mamma, per te, io, conto? E come se conti? E allora per Natale, mi fate conto anch'io? Conto anch'io è il conto corrente per me del Banco di Sardegna. Un conto corrente vero, con il Bancomat, su misura per i ragazzi da 14 a 18 anni. Conto anch'io, dal Banco di Sardegna. Gli apri un conto, che gli apre un mondo. Banco di Sardegna, ogni giorno con te. Grazie.